Innova SRL, import e export, di gadget, casalinghi, ceramiche, regali e un grande assortimento di giocattoli. Innova SRL, qualità e convenienza, di prodotti per l'igiene come cerotti, salviette, solventi, profumi, deodoranti e spugne doccia. Spazzole per accessori per capelli, accessori per il bagno, per scarpe e scope complete di bastoni. Mollette, igiene e pulizia. Articoli per animali, sacchetti per vattumiera, sacchetti per frizzer e alluminio e microfibra. Innova SRL, ancora caffettiere, padelle, piatti, tazzine per il caffè, bicchieri, sedie e salvatanai. Innova SRL, siamo produttori e distributori di vaschette di alluminio e bicchieri di carta made in Italy. Innova SRL, si trova in via Sandro Pertini, 22, a Poccio Marino, Napoli. Telefono 081 528 31 16. www.innovatrade.it Esterocchiocciola, innovatrade.it Seguite i nostri indirizzi in sopraimpressione. Innova SRL è sponsor di Magic Music TV.